Marco Vecchio, direttore di Agni Energia e Agni Automazione. Quello dell'efficientamento energetico è un tema che per un'azienda che ha un processo produttivo diventa sempre più importante. L'evento di oggi è stato significativo perché ha saputo affrontare la tematica da un punto di vista vincente a mio parere, nel senso che quello che interessa il soggetto che deve efficientare è sostanzialmente il fatto che deve fare un investimento. Per fare un investimento deve avere in mano gli elementi per poter valutare il ritorno di questo investimento. Le presentazioni di oggi sono state indirizzate praticamente tutte in questa direzione, quindi nel far vedere dei casi pratici, delle applicazioni concrete, di tecnologie ma non solo, anche di pianificazione del concetto di efficienza e in tutte queste applicazioni si è visto anche qual era il ritorno di questo investimento, le tempistiche per recuperare i soldi spesi e i vantaggi che se ne avevano in termini ovviamente di risparmio energetico ma anche di efficientamento generale del processo produttivo. Credo che un altro elemento importante sia nel parlare di efficienza energetica il ricorso sempre di più alla parola di digitalizzazione. Oggi la presenza e la possibilità di avere tanti dati e di poterli utilizzare anche nel processo di digitalizzazione è l'elemento, se volete, nuovo degli ultimi anni ed è quello che deve essere capito e approfondito sempre di più anche in un'ottica di trasformazione dell'industria 4.0 che stiamo vivendo quotidianamente.